buongiorno nel contributo di quest'oggi parleremo di un'opera teatrale famosissima tra le più grandi ovviamente i più importanti del novecento e anche di uno dei più grandi autori del ventesimo secolo parleremo infatti di samuel beckett e della sua piece aspettando godò ovviamente parlare di un autore così famoso così conosciuto ancora oggi come samuel beckett può risultare sotto certi aspetti abbastanza non dico scontato ma molto anche difficile perché chiaramente un autore su cui si è scritto molto su cui nonostante tutto ancora oggi molte delle sue opere soprattutto ovviamente aspettando godò vengono ancora messe in scena con una discreta regolarità è stato come sappiamo anche uno premio nobel della letteratura fu premio nobel nel 69 ma proprio per questo rimane come ho detto anche uno scrittore estremamente importante eternamente attuale forse sicuramente tra i drammaturghi del novecento che meritano di stare tra i primi tra i primi dieci innumiamente della storia del ventesimo secolo per quanto io non ami fare ovviamente queste classificazioni parlando velocemente della biografia di beckett possiamo dire che lui era nato ma adesso andando con molta velocità anche perché beckett vivrà come sappiamo una vita molto intensa era nato comunque a dublino in irlanda nel 1906 proveniva da una famiglia di origine protestante dove aver conseguito subito gli studi si iscriverà alla trinity college di dublino dove sarà uno degli studenti più bravi anche della università si laureerà infatti col massimo dei voti se non sbaglio proprio tra il 26 il 27 comincerà anche a viaggiare molto l'europa viaggerà andrà a parigi prima e poi successivamente anche in italia successivamente otterrà anche un incarico accademico un incarico verso il trinity college di dublino nel 30 però chiaramente lui già con la sua ovviamente come come molti dei grandi pensatori avrà un grande astio nei confronti dell'ambiente accademico vedendo anche i limiti le imposizioni di questo ambiente e infatti successivamente nel 31 lascerà abbandonerà l'accademia infatti l'università il carico di insegnamenti insegnate non è caso e proprio dal 31 lui comincerà infatti la sua attività di scrittore a tempo pieno inizialmente di giornalista diciamo così ma poi successivamente anche di scrittore e infatti poi proprio dagli anni 30 in poi comincerà a viaggiare l'europa continuamente successivamente prima all'inizio proprio dello scoppio della seconda guerra mondiale si stabilirà in francia dove prenderà contatto anche con la resistenza francese diventerà anche un corrispondente di guerra diciamo così comincerà a collaborare con diversi anche giornali della resistenza con diversi quotidiani anche a partire dagli anni 50 inizia anche tra virgolette la fortuna di beckett perché aspettando godò quindi entrando subito all'interno della piste di cui parleremo oggi un'opera che lui scrisse a cavallo tra il 48 e il 49 fu pubblicata poi in seguito nel 52 e ebbe la prima in scena nel gennaio del 53 a parigi come sappiamo la prima messa in scena fu un fiasco colossale praticamente fu un grande in successo e anche quelle successive perché poi venne metata venne messa in scena a londra nel 55 anche lì ottenendo delle cattive recensioni anche successivamente negli stati uniti è l'unico diciamo l'unica città che aveva acclamato in maniera abbastanza poi marginale quest'opera fu new york in realtà new york ebbe un discreto successo però diciamo che aspettando godò avrà il giusto riconoscimento come possiamo immaginarci per un'opera così importante anche così innovativa in quel periodo storico siamo inizi degli anni 50 quando ancora si andava a delineare proprio quel teatro dell'assurdo di cui beckett così come anche ionesco un autore straordinario di cui magari un giorno proveremo anche a parlare sono indubbiamente i più grandi esponenti beckett è sicuramente in quest'opera anche il più lo scrittore del novecento esattamente come kafka come tanti altri ovviamente quest'opera forse ancora più di tutte le altre descrive perfettamente quella che è l'assurdità della modernità l'assurdità di un uomo che ha perso completamente anche il significato stesso della vita ma ovviamente adesso ci arriveremo quando cominceremo anche a parlare ovviamente di questa pisse il successo come ho detto l'otterrà il giusto riconoscimento quest'opera comincerà ad ottenerlo nel tempo a partire dagli anni 60 e poi successivamente anche negli anni 70 quando quando assumerà chiaramente il ruolo anche la diventerà verrà considerata il classico che tutti noi ovviamente conosciamo è importante anche ricordare che questo periodo beckett frequenterà tantissimi grandi intellettuali chiaramente mi hanno dimenticato di dire che negli anni venti sarà amico di joyce il più grande scrittore irlandese dell'epoca avrà una grande frequentazione dei circoli letterari anche culturali della parigi degli anni cinquanta un periodo di un fermento impressionante conoscerà ovviamente sartre conoscerà simone de bovier conoscerà ovviamente anche emilio rani due saranno molto amici e comincerà come ho detto a collaborare con molte con diverse anche non solo riviste perché beckett non affioca molto l'attività di giornalista in realtà quello è stato più un come dire un lavoro alimentare comincerà soprattutto a scrivere per il teatro come sappiamo il teatro anche molte sceneggiature cinematografiche pensiamo che addirittura alcuni dei suoi film una sceneggiatura fu anche riadattata come film a pastor keaton ad esempio dei grandi ovviamente registi del cinema muto americano questo poi ovviamente in seguito ma comincerà quindi a dare anche molte a scrivere molti sceneggiati radiofonici anche cinematografici come sappiamo che beckett morirà nel 1989 quindi una vita anche abbastanza lunga che attraversa praticamente quasi tutto il ventesimo secolo parlando ovviamente di aspettando godò che la sua opera sicuramente più famosa più importante anche probabilmente è un testo come ho detto molto particolare chiaramente quasi tutti io credo chi segue questo canale avrà letto questo testo quasi è la storia diciamo di quasi che non un testo che non ha storia in realtà è un'opera quasi fuori dal tempo ovviamente si rifà anche a un modello che è quello del teatro che era già stato in qualche modo teorizzato da streamberg anche da antonino artuglio direi perché c'è questa c'è questa forte componente onirica quasi surrealista quanto ovviamente non appartenga a questo genere è un teatro che apre possibilità immense anche perché è una piece che offre tantissime chiavi di lettura ovviamente come tutti i grandi testi letterari ovviamente c'è nel senso che possiamo dare a quest'opera diverse interpretazioni come infatti poi sono state date è un testo che ha ispirato centinaia probabilmente tantissimi grandi scrittori poi del novecento dibattiti anche su quale possa essere quel significato per quanto poi realtà beckett la bellezza anche di questa grande opera come è tutto in qualche modo il grande teatro del novecento che come ho detto poc'anzi non si limita a darci un'unica visione cioè un'unica chiave di lettura ma come ho detto apra diverse possibilità in questo è sicuramente un testo che può rimandare a kafka come abbiamo detto è la storia di questi due personaggi quasi grotteschi ma che poi in realtà sono due vagabondi ovviamente due barboni probabilmente che sono estragone e vladimiro che si ritrovano in questo luogo o non luogo potremmo anche dire in attesa così vagando senza far praticamente nulla o comunque attraverso le loro vicende che chiaramente sono quelle che possiamo immaginare di due vagabondi di due persone che sono al di fuori di ogni tipo di connotato sociale e anche questa anche questo è un aspetto interessantissimo perché beckett rappresenta quindi anche se vogliamo dire così fa anche un po di critica sociale mettendo due diseredati praticamente due personaggi che sono completamente al di fuori degli schemi della vita sociale all'interno di un'opera ed è per questo che infatti immaginiamoci nella bariggi dei primi anni 50 tra quella buona borghesia era ancora venire questi due disperati sembrava qualcosa di assurdo infatti poi come ho detto proprio negli anni 60 quando anche il teatro assume anche un ruolo di veste sociale che aveva già avuto ovviamente anche in precedenza che quest'opera verrà completamente rivalutata e anche apprezzata per quanto ovviamente il tema sociale non è tra i temi non è l'unico ovviamente ce ne sono molti altri come ho detto questi due personaggi che vagano in questo spazio che vanno in questa questo non luogo come ho detto sono lì in attesa di questo signor godò di questo fantomatico personaggio che poi è il protagonista stesso dell'opera per quanto poi realtà come molti hanno sottolineato il protagonista di questa ps in realtà è l'attesa proprio il titolo stesso anche no aspettando godò in attesa di godò e questo è tutto quanto si svolge attraverso le vicende di questi due soggetti di questi nostri due protagonisti che poi sono meraviglioso anche perché si odiano però poi si fanno di sempre riprendere troviamo questo astio apparente ovviamente tra i due personaggi anche abbastanza c'è anche una grande umanità con cui lui ce li descrive con cui baguette descrive questi personaggi che come ho detto tra l'altro senza dare grandi dettagli senza senza stare lì a tra l'altro con dei dialoghi che sono molto brevi come sappiamo non hanno ci sono grandi monologhi sono continue botte risposte dialoghi quindi molto serrati quasi potremmo dire così cinematografici in questo senso l'azione e il effettivamente qui non esistono perché tutto si svolge nel giro di queste due giornate per quanto poi in realtà il tempo sia anche in qualche modo diluito attraverso quest'azione dove noi non ci rendiamo mai conto effettivamente quanto tempo passa perché ovviamente noi capiamo quello che sta succedendo capiamo ci rendiamo conto ovviamente che è trascorso un giorno per quanto questi nostri personaggi che vivono completamente fuori dal mondo quasi astratti non ne abbiano una reale consapevolezza l'unico che ce l'ha in qualche modo è Vladimiro che come sappiamo è anche tra i due quello un pochino più intelligente potremmo dire così quello che ha un pochino più di barlume ed è infatti quello che dice sempre che stanno aspettando questo signor Godot ovviamente l'attesa di questo Godot che ovviamente non arriverà mai come tutti sappiamo rappresenta anche e qui ci si potrebbero aprire tanti dibattiti l'attesa della di una speranza la speranza anche la speranza di un possibile cambiamento di un possibile arrivo anche perché loro sperano sempre che questo signor Godot possa ovviamente migliorare anche la loro sorte continuamente lo ripetono anche nel testo noi stiamo aspettando Godot perché poi andremo con lui ci porterà a casa sua insomma si prenderà cura di noi quindi è anche bellissima ad esempio la scena quando i due a un certo punto cominciano a discutere perché chiaramente me lo dimenticavo di dire che l'unico elemento che è presente sulla scena è questo albero questo grande salisce piangente per quanto poi ovviamente anche lì ci sia un dibattito tra i due perché non sanno mai stabilire che tipo di albero sia e c'è questa scena quasi grottesca come ho detto bellissima anche molto commovente quando a un certo punto loro decidono di impiccarsi come sappiamo decidono vogliono impiccarsi però non hanno una corda hanno giusto la cinta se non sbaglio di uno dei due di Estracone e fanno questo ragionamento tra loro chiaramente perché dicendo che se si impicca prima uno che era un pochino più grasso poi se il ramo si rompe quello magari muore però l'altro non si può impiccare a sua volta e quindi la cosa peggiore non è tanto il fatto che lui morirà ma il fatto che poi resterà solo ecco c'è anche il tema ovviamente della solitudine infatti è bellissimo quando questi due personaggi ogni volta non lo so Estracone dice adesso me ne vado me ne voglio andare prende va via di scena e poi dopo neanche tre secondi dopo ritorna subito quasi terrorizzato spaventato e ritorna da Vladimir quindi abbiamo grande pietà verso questi nostri due protagonisti che come ho detto sono due personaggi indimenticabili per quanto poi siano dei fantocci degli archetipi potremmo dire così anche della vita ricordano ovviamente i personaggi di Kafka per quanto poi realtà siano più umani di quella realtà che hanno intorno perché infatti poi gli altri personaggi che entreranno sono altri due come sappiamo sono questo Pozzo e il suo servo diciamo il suo schiavo praticamente il suo vassallo il facchino che è questo lachi e Pozzo rappresenta in qualche modo che tratta in quel modo in maniera così ignobili il suo servo prendendola frustate Beckett qui ci rappresenta non soltanto la cattiveria umana indubbiamente la crudeltà anche dell'essere umano verso il suo simile ma ci rappresenta anche la condizione probabilmente del potere di come il potere riesca sempre a schiacciare quello che ci è sotto bellissima ad esempio la scena quando dicono al nostro lachi a questo servo che non fa niente fa tutto quello che gli viene detto quindi c'è anche un elemento estremamente surrealista poi troveremo addirittura in Pasolini io lo ripeto perfettamente in molti dei film di Pasolini quelli più particolari anche e Beckett chiaramente qui ce lo mostra per esempio nella scena in cui si dice al servo di pensare e il servo comincia a fare tutto un suo discorso monologo lunghissimo è bellissimo quando infatti lo tengono fermo cercano di fermarlo perché è come se fosse partito ormai dato che questo servo stava sempre in silenzio come se fosse appunto un cagnolino faceva tutto quello che gli veniva detto e appunto è meraviglioso quando infatti il suo padrone Pozzo gli prende il cappello gli dice adesso così non penserà più e comincia a schiacciare perché pensavano che era attraverso il cappello che lui pensasse l'idea stessa che il pensare diventa proibito che non deve pensare l'essere umano anzi il servo ovviamente non ha diritto di pensare non ha diritto neanche di parola un elemento che è estremamente violento ovviamente che Beckett ci sottolinea in maniera così forte in maniera così netta anche perché ripeto quest'opera non è soltanto importante ovviamente attraverso la metafora di Godot che può rappresentare come detto l'arrivo della speranza dell'attesa della vita l'attesa di dio anche come molti hanno voluto giustamente anche sottolineare l'attesa della morte può rappresentare milioni di possibilità ma anche sono tutti quei sottotesti che i grandi autori come abbiamo sempre visto ci hanno lasciato ci hanno nelle loro opere perché come vediamo qui Beckett sta affrontando tutte le tematiche che sono tipiche della modernità il rapporto fatti a come abbiamo visto anche dell'insensatizza della vivere del vivere comune infatti i nostri protagonisti sono costantemente infelici e non sanno che cosa fare vagano nel niente ma non perché sono soltanto dei barboni come possiamo immaginarci ma è la condizione che ormai vivono gli uomini contemporanei l'uomo contemporaneo ormai non ha più più delle volte ovviamente non riesce più a vedere un senso nella sua vita soprattutto oggi ecco perché quest'opera ancora forse più attuale adesso che in passato dove ormai si vive per inerzia si vive per abitudine si vive per comprare il pane e mangiare bellissima la scena quando loro mangiano sempre queste rape questa carota tutti i giorni fanno compiono sempre le stesse azioni esattamente quello che ormai fa il 90 per cento dell'umanità oggi ma è anche questa condizione esistenziale quindi infatti che accomuna ormai gli esseri umani e nel doversi creare poi degli scopi delle possibili mete da raggiungere e Godora presenta anche questa meta infatti probabilmente ogni volta arriva la sera quando dovrebbe arrivare questo signor Godo come sappiamo e viene mandato sempre questo ragazzino che dice sempre no signore sì signore bellissimo anche i personaggi di contorno perché sono anche gli archetipi della modernità rappresentano perfettamente quello anche quei fantocci quelle figure quasi indefinite interscambiabili ormai che sono diventati gli uomini Beckett in quest'opera rappresenta anche la condizione di un essere umano che ormai è stato da un certo punto di vista sottratto alla vita se infatti come diciamo sempre in passato ogni essere umano aveva un posto nella società aveva un luogo aveva anche un si sentiva felice in quello che lui creava in quello che realizzava sono chiaramente anche questi archetipi che rappresentano perfettamente anche la modernità cioè di figure che ormai sono semplicemente tratteggiate che non hanno nessun tipo di reale connotato sono quasi figurine interscambiabili e ovviamente loro questo giovane che dice sempre dice sempre loro che dopo il signor Godo non si potrà presentare quel giorno ma dovranno tornare domani che sicuramente sarebbe venuto i personaggi come ho detto poi di Vladimir e Stragone fantasticano anche nella loro vita durante questa loro vicenda immaginando sempre per quanto poi ovviamente sappiamo anche in che condizioni disastrose l'essere umano viva nell'essere umano quella vita che poi loro perfettamente incarnano la paura di restare da soli la solitudine in qualche modo a volte si sembra quasi che si detestino però non hanno mai il coraggio di abbandonarsi non hanno mai il coraggio di compiere un'azione bellissimo ad esempio quando si dicono continuamente andiamo andiamo e giusto e Becker poi ci scrive non si muovono ci restano sempre lì fermi quindi anche quell'impotenza di agire quell'impotenza di fondo che come abbiamo visto è tipica anche dell'uomo moderno di migliorare anche la sua vita noi oggi viviamo in un'epoca dove molti si lamentano poi nessuno cerca mai di far qualcosa per cambiare la situazione questo è anche un altro tratto che Becker ci sta sottolineando ma ripeto non voglio stare qui adesso a raccontare tutti le possibili a parlare di tutte le possibili chiavi di lettura altrimenti come detto si farebbe un video di tre ore però evidente che in questa opera così breve tra l'altro perché si legge come sappiamo in giro di un'oretta volendo non è un testo molto lungo sono una cinquantina di pagine attraverso poi alla fine cinque personaggi in realtà perché vabbè due sono ovviamente i nostri protagonisti gli altri tre sono il Pozzo come abbiamo detto Lucky il suo servo e ovviamente questo ragazzo il giovanotto che ogni volta entra per dire ai nostri protagonisti che il signor Godot non si presenterà e forse come detto il vero protagonista è questa figura astratta questo Godot che come ho detto può incarnare diverse rappresentazioni o può anche in qualche modo simboleggiare quell'eterna attesa dell'essere umano quelle condizioni che noi oggi viviamo nella nostra epoca in un'epoca che purtroppo come vediamo non prova neanche a risolvere quei quesiti fondamentali che l'uomo del novecento si è in qualche modo posto non cerca minimamente di trovare anche una possibile soluzione e quindi questa eterna domanda che Beckett pone a noi tutti che i grandi scrittori grandi letterari ci hanno sempre posto rimarrà probabilmente senza risposta infatti noi alla fine non sappiamo mai se questo che cosa faranno i nostri protagonisti è bellissima anche che c'è sempre questo ritornello quando loro vogliono andarsene e Vladimiro dice no non possiamo e Stragone chiede ma perché dobbiamo aspettare i godori già sì è vero come se ogni volta questa specie di cantilena questo ritornello che sentiamo come ho detto per quasi tutta la durata dell'opera della pisse fosse anche l'unica speranza l'unica possibilità che anima questi due poveri disgraziati anche il saper chiedersi il perché della loro vita a un certo punto si domandano per quale motivo esistiamo che scopo abbiamo perché viviamo domanda che il novecento continuamente pone anche l'essere umano insieme a tutta anche emil siolanne infatti ovviamente amava quest'opera non poteva non amarla come qualunque persona colta ovviamente e è interessante il fatto stesso che nello stesso tempo questa richiesta questa volontà di trovare un senso nella propria vita si esprima proprio anche nell'attesa di qualcosa nell'attesa che arrivi qualcosa non dico di bello necessariamente qualcosa che però che possa darci la speranza di vivere ma anche di trovare un perché a tutta la nostra soffrire il pensare infatti è bellissimo quando a un certo punto il personaggio di Pozzo lo ritroveremo che ormai è diventato cieco adesso non voglio raccontare tutta la situazione altrimenti come ho detto sarebbe troppo lungo e dice ma tanto un giorno un mese un anno non importa nulla perché sono diventato cieco non lo so perché la chi è diventato muto non so neanche questo tanto nasciamo moriamo e tutto va avanti come se niente fosse e anche questa forma di concezione fondamentale anche che ormai rappresenta anche il mondo che rappresenta anche la situazione della vita che gradualmente si spegne ed è per questo che l'attesa di Godot assume quasi una veste mistica assume quasi la veste di un essere umano che attende impazientemente ma nello stesso tempo anche con grande speranza senza però essere così tanto diciamo senza però troppo illudersi perché è evidente i nostri protagonisti sanno benissimo che questo signor Godot non arriverà mai senza però troppo illudersi che ci possa essere come ho detto poc'anzi una possibilità una risposta a loro vivere qualcosa che dica loro e che gli spieghi per quale motivo hanno dovuto soffrire hanno dovuto vivere e hanno dovuto anche morire quella stessa domanda e quella stessa risposta che molti di noi in un modo o nell'altro cercano grazie